Che si festeggia il 29 giugno? Che davano i cavalli e non li danno. Sì, vabbè, questo si sa, ma che santo è? Boh, il santo della chiocciola gira la chiocciola il 29 giugno. I santi, non il santo, sono due. San Pietro e San Paolo. Insieme? Sì, insieme, lo stesso giorno. E perché? I santi non si festeggiano il giorno della morte, ad eccezione di San Giovanni? Sì, ma loro annunciarono il Vangelo nella città di Roma e morirono martiri sotto l'imperatore Nerone. Il primo, come dice la tradizione, è crocifisso a testa in giù e è sepolto in Vaticano presso la via Trionfale. Il secondo, trafitto con la spada e è sepolto sulla via Ostienze. Sono i pratoni di Roma, ecco perché a Roma fanno festa. Ma come si riconoscono? San Pietro ha un mazzo di chiavi in mano, perché Gesù gli dice Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. E ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. A volte c'è anche il gallo che canta tre volte e San Paolo... San Paolo ha la spada, usa l'armatura in genere indossata da un soldato romano per descrivere un'armatura spirituale che prepara il cristiano a resistere all'insidia del diavolo. Dice anche San Paolo Prendete anche la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. E poi lo sai che una delle parrocchie dell'UPD è la chiesa di San Pietro alle scale? La nostra chiesa si vede già dall'esterno che è dedicata a San Pietro, infatti sopra la porta è possibile riconoscere il santo dalle chiavi. Dentro la chiesa, inoltre, possiamo osservare un'opera moderna del Bichi, dove si vede San Pietro pentito dopo che il gallo ha cantato tre volte. Vicino all'altare, inoltre, nella pala dei Lorenzetti, si vedono accanto alla Madonna San Pietro, che tiene in mano le chiavi, appunto, e San Paolo che invece regge la spada. Ma San Pietro e Paolo non si trovano soltanto nella nostra chiesa, infatti si possono incontrare anche nell'oratorio della Chiocciola e anche alla Croce del Travaglio. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma se alzate gli occhi potrete osservare le statue. Si possono trovare anche nella chiesa vecchia di Marciano e un bel San Pietro si trova anche alla Masone. Inoltre, possiamo osservare anche un meraviglioso dipinto di San Paolo nel Museo dell'Opa. Quindi, buon 29 sogni a tutti e, appunto, buon festeggiamento di San Pietro e Paolo!